Buongiorno, diamo inizio a questa audizione. Siamo in relazione all'affare segnato il 1.400 problematiche concernenti le modalità di attuazione della strategia Farm to Fork e le sue ricadute sull'agricoltura italiana. Oggi è anche una bella giornata, secondo me, perché dopo due anni, tre anni, abbiamo per la prima volta un audito in presenza, quindi questo è un bel segnale. Non solo la pioggia, ma per noi che sono circa due anni e mezzo, che abbiamo due anni sicuramente, che noi avevamo auditi in presenza, oggi speriamo che sia anche di buon auspicio per questa strategia Farm to Fork che sta sollevando parecchie perplessità. In questa Commissione ne abbiamo iniziato a discutere, oggi tra l'altro abbiamo in aula proprio questo argomento con il Ministro Patuanelli e forse anche il Segretario Centinaio, proprio per parlare di questa strategia che non ci porta solo cose buone, almeno così, poi lei ci dirà cosa ne pensa. Grazie, quindi approfitto e do il benvenuto al Presidente di Apo Conepro, il Dottor Davide Bernocchi. Buongiorno. Adesso io le passo subito la parola, siamo qui in audizione e quindi sentiremo le sue perplessità. Io ho avuto modo di vedere, di leggere da Agronotizi un articolo in cui io condivido pienamente quelle che sono le sue perplessità. Questa strategia sulla quale siamo tutti d'accordo, sulle finalità in questo ambiente migliore, sui quali bisogna lavorare tutti quanti nella stessa direzione ed oggi avrò il piacere anche di illustrare in aula questa mozione che, devo dire, è anche un evento molto importante perché abbiamo avuto l'unanimità da parte della Commissione Agricoltura e quindi questa è anche tanta cosa, significa che tutti lavoriamo nella stessa direzione per raggiungere un obiettivo che condividiamo che è quello della salvaguardia dell'ambiente e forse è il modo in cui dobbiamo raggiungere questo obiettivo sul quale forse ci sono delle perplessità da parte di molti, quasi oserei dire tutti perché stiamo vedendo che l'obiettivo da raggiungere a queste condizioni forse ci costerà un po' troppo. Io mi fermo qui, le passo subito la parola. Quanto tempo ha a disposizione? Dieci minuti, un quarto d'ora? Quello che generalmente è questo, il tempo che è a disposizione degli auditi, dopodiché chiaramente ci sono le domande da parte dei colleghi senatori che non sono solo quelli qui presenti in aula ma ce ne sono anche dei collegati telematicamente. Prego dottor Vernocchio. Ok, ok, grazie soprattutto anche per la disponibilità e per avermi invitato perché non è una cosa di poco conto poter essere invitati su un tema molto delicato e di grande impatto comunicativo questo ed è l'aspetto un po' che è molto importante perché il doversi confrontare con l'opinione pubblica nel momento in cui si parla di agrofarmaci o di fertilizzanti soprattutto nel momento in cui il mondo agricolo è visto come soggetto che inquina e via dicendo. A Boconerpo due numeri, è un'organizzazione di produttori con sede prevalentemente in Emilia Romagna ma con 50 realtà cooperative dislocate un po' in tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige per un discorso di basket e di prodotti. Sviluppiamo un fatturato aggregato di 650 milioni di euro, abbiamo dei marchi penso abbastanza conosciuti, dal fresco al trasformato, Valfrutta, Opera, Yogi, Derby, Cirio, sono tutti grandi marchi, molti li considerano grandi ma piccoli marchi se confrontati con la distribuzione. Perché siamo usciti in maniera importante su queste pagine di giornale per denunciare una situazione. Il tema del Far to Forge, almeno per noi come mondo organizzato, non nasce due anni fa quando è uscita tutta la tematica relativa al Green Deal o il Far to Forge. Il mondo agricolo è impegnato in un contesto relativo alla tutela dell'ambiente. dell'ambiente. Già, noi stiamo lavorando in questo contesto da oltre 20 anni. Pensate anche a tutta quella che è stata l'evoluzione dell'uso dei agrofarmici, non so fino a che punto li conosciate, si è passati, dagli esteri fosforrici, fosforganici, siamo arrivati alla confusione sessuale per quanto riguarda determinati insetti, con dei risultati oggettivamente con una produzione molto vicina al biologico, dico con molta franchezza. Poi cosa ci siamo trovati? Per cui un grande sforzo, sforzo in termini economici, sforzo in termini di uomini, per affermarsi su un mercato, sapete meglio di me quanto questo mercato sia competitivo. Poi ci troviamo scritti questi obiettivi che la Commissione europea si è data, molto ambiziosi. Ci tengo a precisare che la prima persona che a cuore l'ambiente, credetemi, è il produttore. Perché parliamo, noi qui siamo seduti in questa sala, che probabilmente avrete i vostri uffici, come ho il mio ufficio a Bologna, ma i nostri produttori, il loro ufficio, l'hanno in mezzo al frutteto. Il mio ufficio, quando non sono qui, è in mezzo al frutteto. La prima persona che vuole tutelare l'ambiente è il produttore, perché tutela il suo posto di lavoro, dal punto di vista salutistico. E poi tralascio il fatto che non sia tanto meno che un produttore si diverte a spendere dei soldi per degli agrofarmaci o dei concimi se non ne può fare meno. perché comunque sappiamo tutti che è una componente di costo assolutamente importante di tutto il discorso della marginalità. Per cui la nostra preoccupazione è che sono usciti questi numeri da parte della Commissione e non riusciamo a capire qual è la razio per il quale ci si dà questi obiettivi. Questi obiettivi. Questo è il grande tema. E di lì, attraverso le nostre organizzazioni di rappresentanza europee abbiamo lavorato per stimolare degli studi di impatto, premesso che la Commissione europea è uscita con dei numeri senza uno studio di impatto. Gli americani l'hanno fatto per conto dell'Europa e noi oggi ci troviamo, l'Università di Wageningen ha evidenziato i numeri che avete letto anche sulla stampa, anche i giorni scorsi, sempre sul sole 24 ore. Della serie che, se guardiamo alcune grandi produzioni frutticole, tipo il melo, rischiamo di perdere un 20-30% del potenziale produttivo, quantitativo e qualitativo. Non dimentichiamo mai l'aspetto qualitativo che spesso viene sottovalutato. Anche perché poi dopo, nel momento in cui il cittadino va a acquistare, parliamo delle mele, con dei soldi, si direbbe dalle parti mie in Romagna, con dei soldi buoni, pretende della frutta altrettanto buona. Nel momento in cui tu togli dei principi attivi, che sono, io le chiamo le medicine delle piante, è inutile che ci giriamo attorno, funzionale a difendere una pianta contro dei funghi o degli insetti che creano dei vermicelli, non so fino a che punto, il consumatore italiano o europeo è disponibile a pagare con dei soldi buoni della frutta del genere, o preferisca della frutta proveniente da altre realtà. C'è però in questo studio, ed è questa l'occasione importante che mi è stata data, visto che mi avete chiamato, c'è un limite importante. L'analisi che fa Wageningen fa riferimento a delle grandi culture globali. Il melo lo troviamo in tutto il mondo. Che parli dalla Corea e gli Stati Uniti, il melo lo troviamo. Il grano, il mais, lo troviamo in tutto il mondo. Ma se iniziamo a parlare, pere, carote, carciofi, questi sono prodotti tipicamente, che caratterizzano la biodiversità produttiva dell'Italia. Che in quelli che sono gli enunciati, che il Fantuforca fa, dice che dobbiamo salvaguardare le biodiversità produttive dell'Europa. Qual è il problema che stiamo vivendo? Che le multinazionali della chimica, Presidente, ma perché fanno il loro interesse per un discorso di business, se da un lato sono molto attenti a queste grandi culture globali, perché intravedono un business, nel momento in cui si parla, pere e abate, ce ne sono 9.000 ettari in Italia, io gli ho fatto un quesito, io avrei bisogno di un principio attivo, dice guardi Presidente Vernocchi, io di 9.000 ettari neanche mi impegno, perché non copro neanche i costi della stampa dell'etichetta. Le multinazionali stanno abbandonando le culture tipiche dell'area mediterranea, perché non ci sono, non intravedono un business in termini di vendita di agrofarmaci. Questo è un grande limite che sfugge purtroppo ai grandi sistemi, ma nel momento in cui noi non riusciamo più a produrre carote, carciofi, melanzani, non è che il consumatore non le trova, comunque qualcuno gliele fornirà, che arrivi dall'Egitto, dal Marocco, forse le pere abate non le troveranno nessuno, perché le pere abate ormai il loro destino è quasi segnato. Io credo che noi abbiamo il dovere, dico noi come organizzioni produttori, ma sto guardando anche voi chi ci rappresentate, di far aumentare la coscienza nei confronti di chi deve fare delle scelte, di quelli che sono questi rischi. Se io, cioè, noi come sistema delle rappresentanze, annualmente chiediamo, pensate, facciamo delle richieste di usi eccezionali, è l'articolo 53, cioè la possibilità di poter utilizzare determinate molecole su culture che non sono previste in etichetta. In sintesi noi chiediamo dei prodotti per 60 specie diverse e parliamo di 60 molecole diverse. se l'Italia è sotto i riflettori da parte della Commissione Europea perché sta concedendo troppi usi eccezionali. Io mi sono interfacciato con i dirigenti del Ministero dell'Agricoltura e lui dice, ma come possiamo fare? Ma signori, guardiamo le biodiversità che ci sono in Danimarca e in Germania, ce ne sono 10-20, in Italia parliamo solo di queste piccole culture, parliamo di quante? 7.000. 7.000? Ma ci rendiamo conto qual è l'enorme rischio? Poi vogliamo difendere il Made in Italy, ma il Made in Italy non è... Siamo secondi solo al Brasile, che come vastità territoriale è neanche rapportabile all'Italia. Capite bene questa mia grande, dico mia, perché comunque io sono qui a rappresentare un gruppo. Questo è un boomerang devastante per il sistema produttivo italiano. Una cooperativa importante che sicuramente conoscete, non fa parte del mio gruppo, ma col quale mi interfaccio per ragioni territoriali è l'Orogel, per dire. Orogel fa surgelati dell'area Cesenate. Mi chiama il loro responsabile tecnico, attraverso Bruno, il Presidente, e dice guarda, Bernocchi, visto che tu sei abbastanza impegnata anche per un discorso di organizzazione, noi il successo della nostra azienda molto dipende da quei mix di vegetali, di orticole, che riusciamo a fare nell'ambito delle nostre miscele, che probabilmente molti di voi già conoscono. Noi su molti prodotti non sappiamo, non abbiamo diserbi, non abbiamo insetticidi, non abbiamo fungicidi. Mi spieghi come possiamo fare? Io dico guarda, ci impegneremo, e di lì anche quello è stato uno stimolo ulteriore per il quale sono uscito sui giornali, perché se noi non denunciamo questa situazione, almeno possiamo dire, non dico che abbiamo la coscienza a posto, perché comunque battaglieremo su tutti i fronti, però su questo è giusto che lo sappiate. Noi abbiamo incaricato alcuni mesi fa, NOMISMA, che sicuramente conoscerete, per fare uno studio di impatto analogo che ha fatto Wageningen, sul pero, sulla coltivazione del pero, che secondo me è una delle culture più a rischio. Più a rischio perché gli effetti, io dico dei cambiamenti climatici, stanno impattando drammaticamente su questa cultura. Vuoi che c'è la cimice, vuoi perché le alte temperature stanno generando, stanno rendendo i funghi più virulenti. e non avendo molecole, la cultura nel momento in cui tu hai delle perdite, del 20-30, come quest'anno si è raggiunto nella BAT, l'80% in termini di perdite, vuol dire che l'agricoltore, di fronte a dei costi di produzione di 15.000 euro per ettaro, il produttore resiste un anno, vogliamo dargli due anni per questo anno, se no non ne viene fuori. Ma noi perdiamo, vi ricordo, il pero, la quarta specie frutticola italiana più esportata. Capite il pericolo? E questa per me è una di quelle culture minori che nei grandi numeri della Commissione Europea non viene annoverata, però dobbiamo essere consapevoli che anche una cultura importante, tipica dell'Italia, perché la BAT si fa solo in Italia, noi rischiamo di perderla. Questo è il dramma. Poi, vogliamo parlare di reciprocità, controlli alle frontiere? Ma i controlli bisognerebbe farlo trattandosi di micro insetti, non su lotti, su macro lotti, sull'intera partita. Allora è la certezza che non ti entri, ammesso che tu riesci a controllare l'entrata. Poi c'è tutto l'altro grande tema della ricerca, che meglio di me la conoscete, tutte le nuove tecniche di miglioramento genetico, che se qui non facciamo una distinzione chiara tra quelli che sono gli OGM, cioè i classici OGM, geni da specie diversi, da quelli che sono le nuove tecniche di miglioramento genetico, che ci accelerano, vi dico, ci accelerano il percorso, il trovare le soluzioni. Noi nel giro di pochi anni noi le perdiamo queste culture, poi dopo perdi i produttori, perdi la filiera, perdi il mercato, o perdi il mercato, la filiera e i produttori, noi dopo ci accorgiamo, non le possiamo più fare, per forza, non siamo nelle condizioni di produrre. Questo è il grande tema e colgo questa opportunità per esporverlo, però con molta ansia, con molta preoccupazione. Io in Emilia Romagna ho 3-4 cooperative, 50 cooperative associate al mio gruppo, che si articolano nell'area Modena, Ferrara, anche su Arovigo, pere dipendenti, hanno solo pere, cioè crolla un castello e noi questo, io credo, orgoglioso produttore italiano, io credo non ce lo possiamo assolutamente permettere. Questo però è un po' il tema. Non so se è stato lungo, corto, come io non conosco... Guardi, almeno da parte mia è un piacere sentirla, quindi se vuole ancora qualche minuto, più che volentieri, poi lasciamo spazio alle domande. Ma veda lei come... Io sono a vostra totale disposizione. Beh, ripeto, è stato molto... Sembra un discorso interessantissimo, non sembra nel senso che è molto schietto, molto sincero e per questo l'ho molto apprezzata. Abbiamo centrato assolutamente il tema, che è il tema della forte preoccupazione che poi oggi si concretizzerà anche in questa mozione che abbiamo con il Ministro Patuanelli proprio su questo argomento. quindi significa che siamo sul pezzo, almeno come politica, e quello che io spero oggi si evidenzierà dalla votazione in Senato è che ci deve essere unità, no? In un'unica direzione, perché solo con l'unità di intenti si riesce a scalfire quello che molto probabilmente lei ha centrato come obiettivo, il tema di queste multinazionali sia dal punto di vista del consumo sia anche dei produttori dei fitofarmaci che molto spesso, molto volentieri, qualcuno dice, ma io penso abbiano sicuramente ragione, tendono a monopolizzare il mercato in varie direzioni. Si è prenotato il Senatore Taricco al quale passo subito la parola. Sì, grazie. Io ringrazio innanzitutto il Presidente di averci offerto questo spaccato che io sono un frutticoltore quindi che in parte conoscevo e che in parte abbiamo con piacere risentito nell'audizione di oggi. Mi scuso già in anticipo se poi vi dovrò lasciare perché ho un impegno purtroppo alle 15 quindi devo scappare. Ma ci tenevo a dire sostanzialmente due cose. Una, credo che il tema... Allora, da una parte credo che l'orientamento che Farm to Fork esprime e che le nuove politiche di tutela della biodiversità stanno esprimendo sia in linea di principio condivisibile nel senso che giustamente diceva il Presidente nel nostro Paese soprattutto in realtà quali l'Emilia Romagna e alcune aree altre a fortissima vocazione specializzata hanno affrontato ormai da 25-30 anni a questa parte è una realtà in quei contesti. Io mi ricordo l'entrata in pista delle misure agroambientali sui PSR nel 2006 e tutte le riflessioni e le battaglie che facciamo allora dall'ora ad oggi diciamo di acqua sotto i ponti ne è passata tanta sia diciamo così sui modelli di gestione agronomica del frutteto complessiva sia proprio sulla qualità della chimica a sostegno di questo percorso sostanzialmente devo dire che l'Europa se l'Italia è lunga e larga l'Europa è molto ampia nel senso che oggi come oggi coesistono nella stessa Europa realtà produttiva ad altissima specializzazione e che hanno fatto passi da gigante sui temi di cui stiamo parlando in realtà dove questo tipo di ragionamenti sono agli albori cioè io adesso non voglio mettermi a fare l'elenco di paesi e situazioni ma credo che con uno sforzo minimo di fantasia possiamo farlo tutti ci sono un sacco di realtà anche di nuovi entrati ai paesi europei dove questo tipo di ragionamenti e di discorsi sono assolutamente agli albori quindi che l'Unione Europea si prefigga un determinato orizzonte secondo me non è cosa buona e giusta non è cosa buona e giusta il fatto che immaginiamo di risolvere il problema dicendo a tutti dovete dimezzare tutti cioè nel senso che c'è chi è a 100 se di mezzo va a 50 chi è a 5 se di mezzo va a 2,5 per cui come dire la gestione è assolutamente più complessa dopodiché c'è tutto il tema della difficoltà di portare avanti su temi di questa natura in questo contesto di ricerca e innovazione nel discorso che facevi prima dei grandi gruppi che ovviamente non si sforzano di mettere a punto un prodotto nuovo se se ne fanno 3.000 ettari nel mondo nel senso che non è di assoluto interesse dal loro punto di vista ma invece è di interesse assolutamente strategico in moltissimi casi per quel che riguarda le vocazioni produttive di molti nostri territori che hanno un livello di specializzazione molto alto su questo tipo di colture quindi qui il tema sarà di capire e poi c'è l'altro tema che io credo sia cruciale cioè che al di là di tutto noi possiamo anche fare delle scelte drastiche di riduzione tra virgolette di utilizzo di determinati prodotti per raggiungere determinati livelli produttivi con aumento di costi di complessità e via discorrendo a condizioni che queste regole valgano per tutto cioè non vorremmo che alla luce di determinate scelte poi di fatto si determini una riduzione di produzione perché intere aree smettano di produrre per tutta una serie di motivi e poi magari importiamo lo stesso prodotto da un'altra parte del mondo dove arriva con impatto ambientale con impatto fitosanitario con impatto immensamente non comparabile con quello che era come dire la qualità delle nostre produzioni quindi il tema è assolutamente molto complesso io credo che su questi temi come su molti altri la questione sia che la Commissione europea come dire utilizzi un buon senso pragmatico che faccia i conti con quella che è la realtà di fatto con cui siamo chiamati a confrontarci anch'io condivido il fatto che in visione prospettica le nuove tecniche di genoma editing di cisgenesi e via discorrendo devono venirci incontro perché se da una parte dobbiamo ridurre l'uso della chimica dall'altra parte dobbiamo avere strumenti che ci aiutino ad affrontare questa riduzione avendo però come dire delle pallottole in canna se no nella partita non si può giocare sostanzialmente quindi l'augurio che posso fare come diceva il Presidente è che se c'è un'interità di intenti e si riesce a rappresentare questo quadro non sempre è facile perché anche tutta la discussione che sta avvenendo a livello europeo su ciò che è cancerogeno e ciò che no in questo momento qui è molto complessa e molto difficoltosa perché il rischio di far di tutta l'erba un fascio è sempre dietro l'angolo e sarebbe un errore madornale anche per la tutela dei consumatori che è l'obiettivo finale di questo percorso quindi io su questo ringrazio veramente dell'audizione mi leggerò i documenti che avete prodotto con grande piacere e poi speriamo di fare un buon lavoro a cascata di questo genere mi scuso se devo purtroppo lasciarvi grazie grazie a lei senatore Taricco ha chiesto di intervenire la senatrice Abate se qualche altro senatore vuole intervenire mi dedica grazie presidente buonasera grazie a lei per essere stato disponibile a venire a trattare un tema sostanzialmente complesso ho sentito che lei viene dall'Emilia Romagna io sono in contatto con i pericultori abbiamo avuto un incontro l'altra sera mi hanno detto se entra immediatamente il farm to fork siamo rovinati perché con tutte le problematiche che lei sa inutile che gliele dico naturalmente anche grazie all'egregio lavoro che ha fatto il presidente noi oggi presenteremo una mozione le problematiche ecco studiamo noi qua continuiamo a studiare ed effettivamente presenta degli estremi questo progetto decennale abbastanza quasi pericolosi per l'agricoltura italiana prima prima cosa che mi ha fatto un pochino riflettere questo si dice che non è un programma vincolante quindi bisognerebbe stabilire che cosa significa programma decennale non vincolante per i paesi membri paesi europei dobbiamo essere certi già l'Italia diciamo fa un'agricoltura come ben ha scritto il presidente nella sua mozione sostenibile il biologico sta prendendo piedi abbiamo in discussione una legge altri paesi no e allora l'andiamo ad armonizzare poi questo questo programma decennale di fam to fork oppure resta sempre il paese che utilizza un pochino di più rispetto agli altri questi fitofarmaci e tutto questo complesso di sostanze e di pratiche che dovrebbero essere abbandonate oppure diamo un tetto per il quale tutti i paesi si devono armonizzare a determinati livelli l'Italia naturalmente diciamo potrebbe essere in questo penalizzato uno perché per quello che ho detto perché noi già stiamo andando verso un'agricoltura ecocompatibile con l'ambiente un'altra cosa poi è la sicurezza la clausola che si dovrebbe una clausola di salvaguardia nel dire che qualora la produzione diminuisce diminuisce o diminuirà del 30% almeno per determinate invece specie soprattutto nella filiera ortofrutticola quella della quale io mi occupo in particolar modo forse avrà un taglio anche del 50% prendendo zone e zone perché ci sono zone dove ci sono meno attacchi di agenti patogeni invece altri che ne hanno di più quindi si potrebbe avere in quel caso una diminuzione del 30% come andiamo a coprire questo mancato guadagno lei parlava di produttori il produttore non è tutelato nella filiera assolutamente no io quando sento parlare di contratti di filiere del PNR che va in quella direzione e non sento parlare di tutela del piccolo produttore anche attraverso il costo di produzione e questo costo di produzione è stato derogato anche dalle pratiche commerciali sleali con una con un eccesso di delega che va a derogare queste pratiche nel rapporto fra le cooperative le OP e i soci internamente e allora come li sosteniamo questi agricoltori e soprattutto la produzione mancante verrà diciamo coperta da produzione di paesi terzi dove non utilizzano sicuramente il farm to fork e quindi sarà ancora diciamo un'occasione per penalizzare la produzione italiana il made in Italy e quindi noi ci ritroveremo ad affrontare Presidente non solo una diminuzione di quello che è la nostra produzione potrebbero salire appena appena i prezzi con il rischio che entra roba da fuori e noi non vendiamo nemmeno quel poco che produciamo e allora sicuramente io da ambientalista sono fermamente convinta che bisogna procedere verso la tutela della salute che passa anche attraverso quello che mangia però sinceramente per la prima volta una misura ambientale mi preoccupa mi preoccupa perché già pandemia variazioni ambientali aumento delle materie prime già i produttori sono in ginocchio ecco volevo dire un pochino se lei ci poteva rassicurare sotto questi aspetti anche se il percorso è in itinere quindi ancora abbiamo la possibilità forse di interfacciarci con l'Europa per quanto sia possibile grazie grazie senatrice abate sì senatrice naturale prego grazie presidente grazie per la vostra presenza qui io ho fatto un po' di ritardo ma il tema è noto e non vogliamo riempirli riempirla di altre ulteriori domande perché invece l'impegno nostro ne diamo prova oggi con la mozione di collaborare con il governo in modo che l'Italia riesca a fare un tutt'uno con l'Europa in modo da difendere quella che è la nostra produzione nazionale quella che è la nostra attività di impresa quella che è il lavoro dei nostri agricoltori in quello che è un settore primario trainante dell'economia italiana e non solo quindi l'impegno è forte e i nostri ministri il nostro presidente ci deve portare in Europa in modo da poter difendere tutto questo settore perché altrimenti è chiaro che non si può competere con quella che già vediamo oggi essere un'invasione di prodotti esteri a minor costo di minor qualità e quindi veramente significa buttarsi coscientemente in un baratro e di conseguenza mi ritengo ottimista in quella che sarà l'operazione dell'Europa nel difendere quella che è un bene comune di tutti mi auguro quindi solo quello può essere fare squadra l'Italia certo non può lottare da sola ma la problematica sarà certamente comune a tutti e la collega Abate ha sollevato un punto importante cioè questo limite ci deve essere uguale per tutti perché altrimenti è chiaro che le regole sono belle sono logicamente utili perché l'ambiente è la prima cosa ho sempre pensato che solo così si può tutelare la salute e quindi la vita del pianeta stesso però le regole devono essere uguali per tutti come in una qualunque gara qui si può immaginare che siamo in una competizione europea e globale e quindi le regole devono essere certe si deve partire tutti dalla stessa linea e tutti con lo stesso obiettivo che sicuramente è un grande obiettivo quindi dobbiamo prenderla con ottimismo e tanta voglia di portare a casa quelle che sono veramente le priorità e fra cui c'è anche il guadagno perché è fondamentale per qualunque vite per qualunque impresa quindi siamo una squadra e vi volevo mostrare la mia e la nostra solidarietà grazie grazie senatrice naturale senatore Zuliani grazie presidente grazie al nostro ospite ecco in merito alla questione dell'utilizzazione minore di interesse agricolo per quel che riguarda le culture definite minori e ho fatto un esempio concreto in riferimento alla perabate e volevo capire per quel che riguarda gli agrofarmaci che hanno una limitazione nella produzione dei farmaci stessi perché in termini di coltivazioni è una coltivazione limitata ecco volevo sapere se la difficoltà c'è sui produttori di farmaci agrofarmaci prodotti fitosanitari a livello nazionale o anche stranieri e se la risposta è la medesima e in base proprio alla cultura della perabate mi era interessato capire in che termini percentuale c'è una produzione biologica di quel tipo di pera grazie grazie senatore Zuliani senatrice Leonardo salve anch'io sono arrivato un po' in ritardo mi dispiace non aver sentito evidentemente una relazione che avrà sicuramente fatto il nostro ospite però il problema cioè il problema o i problemi che presenta questo new deal con la parte riguarda la farm to fork è sicuramente una cosa che approfondendola mi ha molto molto preoccupata così come pare che ha tanto preoccupata anche le mie colleghe d'altra parte la senatrice Abbate ha già come dire elencato tutte quante le difficoltà mettendo in campo anche le percentuali io ho fatto diciamo un approfondimento anche per la relazione per la mozione che oggi si discute in aula e cito quindi sono andata alla ricerca di quelle che sono state gli studi già fatti sia al secondo lo studio Joint Research Center della Commissione Europea che è stato basato sul modello Capri dove in tutti i settori della produzione agricola e dell'allevamento sono previsti cali di produzione dal 5 al 15% con risultati ancora peggiori per il comparto zootecnico quindi bovino pollo sui inoltre che per le coltivazioni di cereali semi oleosi ortofrutta e sempre nel report a fronte di questa diminuzione di produzione è previsto un aumento netto dei prezzi di produzione dei prodotti agricoli circa il 10% parlando diciamo in generale e se poi ci rapportiamo anche a quelli che sono i cambiamenti nella produzione europea quindi comporterebbe ancora di più un calo delle esportazioni nonché un peggioramento del deficit commerciale dell'Europa però a fronte di tutti quanti questi punti critici tra quelli prospettati dalle relazioni riguardo a riposo e gli effetti di questa strategia sulle emissioni che è un problema a parte perché appunto come è stato evidenziato una cosa è se l'intero pianeta si adegua a questo tipo di restrizioni per avere un'area migliore e quindi prodotti migliori diverso è se noi lo facciamo soltanto in Europa e mi pare che a pensar bene come da a pensar male dicevano gli antichi non si fa bene ma sicuramente si può indovinare quindi noi faremmo un danno oltre alla beffa perché così alla fine si andrebbe ma ancora di più mi sono rapportata a quella che è uno studio fatto dalla United States Department of Agriculture dove ha fatto un'analisi economics and food security impacts of you farm to fork quindi ha fatto una relazione molto approfondita dove viene rilevato che le preoccupazioni di cui si parlava prima nel report dell'Europa viene anche qui come dire confermato tant'è vero che qui si parla di una strategia che provocherebbe un calo del 12% della produzione agricola a fronte di un aumento dei prezzi del 17% allora io dico è vero che voglio dire potrei continuare d'altra parte sono pezzi della mia relazione di oggi per non parlare o meglio per parlare mi pare che da poco ho letto una agenzia anche del ministro Patuanelli e del Di Maio che praticamente del ministro Di Maio che sono a favore chiaramente del Nutri-Inform Battery e contro assolutamente o contrari al Nutri-Score cioè noi dobbiamo combattere per salvaguardare il nostro Made in Italy cioè io non posso pensare che i nostri prodotti tipo il prosciutto tipo l'olio extravergine di oliva e quante possono avere delle problematiche per fare in modo c'è qualcosa da aggiungere naturale? se vuole le posso magari può anche approfondire per cui starò dicendo delle cose che magari sono state già dette ma è meglio evidenziarle perché la preoccupazione è talmente forte per queste cose che si stanno mettendo in campo io mi auguro che anche a favore della voglio dire se ne è stato discusso in commissione la mozione possa essere un aiuto al governo per dare la possibilità a chi deve andare a combattere in Europa perché qui mi pare che è una guerra se io penso che tutti gli altri paesi sono coalizzati contro il Made in Italy la cosa mi preoccupa e ci deve preoccupare tutti così come ci sta preoccupando d'altra parte il Presidente è stato così solerte nel voglio dire mettere in campo anche la mozione di oggi che è all'unanimità quindi questo Senato è sicuramente unito per far fronte a quelle che sono questi azzardi tra virgolette che arrivano dall'Europa io mi auguro che voi avete la possibilità anche grazie a questa voce forte che arriva dal Senato di poter fare in modo che si possano avere quanti meno danni possibili grazie 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 Senatrice Leonardo Presidente io credo che abbiamo finito il giro di sì però dobbiamo lasciare sì molto veloce perché lasciamo il tempo al Presidente Vernocchi di rispondere grazie Può parlare quanto vuole, che dobbiamo lasciare il tempo al Presidente Vernocchi di rispondere. Prego Presidente. Ok, andando con ordine. Prima probabilmente non eravate entrati. Il discorso Wageningen nasce dal fatto che si è stato commissionato dalle nostre rappresentanze europee, per cui non è stata solo la parte agricola italiana, ma vi assicuro gli spagnoli, i francesi sono molto preoccupati di questo trend, di queste politiche, soprattutto perché non vedono gli strumenti per riuscire ad affrontarle. Altro aspetto importante. Ricordiamoci il tema pandemia. Abbiamo vissuto due anni dove la pandemia, sappiamo tutti come è andata, sugli scaffali, tutti gli scaffali del nostro Paese, l'ortofrutta non è mai mancata. Parliamo di un prodotto vivo, un prodotto altamente deperibile, non è una busta di pasta che la puoi immagazzinare. L'ortofrutta andava raccolta, lavorata, stoccata e messa nella filiera. E noi ci siamo faticati, nessuno se ne è accorto, ma noi l'abbiamo potuto fare perché erano i nostri prodotti. Non avessimo avuto i nostri prodotti, i cittadini si sarebbero trovati gli scaffali assolutamente vuoti. Un altro aspetto che ho citato prima. Lo studio di Wegening parla di quelle che sono le grandi culture globali. Non cita assolutamente, è il grande limite di questo studio. Non parla mai di quelle che sono le biodiversità produttive dei singoli Paesi. L'Italia è uno dei Paesi delle biodiversità produttive. Citavo prima il Pero, ma noi, la mia OP, ha cooperative in Sicilia, in Campania, in Puglia, siamo 50 le cooperative. Se ci vengono a mancare certi principi attivi, impatto di medicina delle piante, noi, carota, carciofo, pero, melanzana, voi signori le troverete solo su prodotti provenienti dall'estero, oppure siete disposti a spendere tanti soldi per quei prodotti, ammesso che ci siano brutti ma buoni, grande punto di domanda, perché il vero rischio è che quelle culture minori, classificate minori, che comunque l'olandese trova, perché comunque gli arrivano dal porto di Rotterdam, lui le trova. Io non so se lo troveremo noi come italiani queste produzioni. E non sono poche, come sottolineava prima il Presidente, ne abbiamo centinaia di queste culture minori che caratterizzano le biodiversità produttive del nostro Paese. Un passaggio veloce sul biologico. La mia OP, noi coltiviamo, sparse per l'Italia, 30.000 ettari di ortofrutta, frutta e ortaggi, il 10% dei quali sono biologici. Non parlo di prati o medicai biologici, parlo di pomodori, mele, pere biologiche, che attraverso l'esperienza che abbiamo accumulato in questi anni siamo riusciti ad assicurare una certa reddittività per il produttore, perché comunque le colture si fanno nella misura in cui poi riconoscono al produttore un minimo di reddittività. I miei tecnici, io non faccio come azienda biologico, i miei tecnici sono preoccupatissimi che seguono il biologico, sono preoccupatissimi perché è una delle molecole che è oggetto di discussione, è anche il rame. Senza il rame, signore, non si fa il biologico. Io se fossi in uno di quei movimenti ambientalisti, ambientalisti per loro, che sposano il biologico, noi abbiamo i nostri marchi, le linee bio, le abbiamo tutte, ma senza rame, non si fa biologico. Il pero, la pera abate biologica, la pera abate biologica le assicuro, noi fino a 3-4 anni fa eravamo in grado di farla senza problemi. Adesso se trovo scritto pera abate bio, le vorrei analizzare perché non sarei così tranquillo che sono biologico, perché ritengo che, penso un po' di conoscerla, sia ad oggi, non sia possibile fare delle pere abate biologiche in maniera sostenibile. Presidente, dovrebbe parlare al microfono? Non credo si possano fare pere abate biologiche in maniera sostenibile. Quando parlo di sostenibilità, parlo anche di quella sostenibilità ambientale, sociale, ma anche economica, perché comunque il produttore di fronte a dei costi di 15.000 euro la beneficenza non riesce a, non la può fare. Tema ambiente. Avete parlato sempre di ambienti interi per quanto attiene il consumatore. Lo dicevo prima nel mio esordio. La prima persona che ha tutto, è il produttore, perché è il suo ufficio. Un produttore non si diverte a inquinare quello che è poi il suo posto dove lavoro tutti i giorni. Per cui c'è una grande attenzione, almeno per quelli che conosco io. Sarebbe un suicida, dottoressa. Ecco questo che voglio dire. Però ripeto, pensiamo bene alle biodiversità del nostro Paese, perché noi con questo trend non solo perderemo il 10 o il 20-30%, ma secondo me dubito che li troviamo negli scaffali, perché non vedo una sostenibilità economica diversamente. Presidente Bernocchi, credo abbiamo esaurito, non vedo altre domande da parte dei colleghi senatori. Per noi è stato un piacere ascoltarla, qui quest'oggi. Abbiamo capito, qualora ce ne fosse stato bisogno, che siamo sulla strada giusta, nel senso che anche oggi quella che diventerà l'audizione del Ministro Patuanelli su questo tema, ma poi molto probabilmente, almeno l'aria che tira sembra quella giusta, ci sarà una votazione unanima, nel senso che ci servono tutta quanta una serie di impegni, di unitarietà nei confronti dell'Europa, affinché quello che, comunque, ripeto, è un impegno condivisibile nel raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dell'ambiente, possa percorrere una strada che non ci porti a tutte quelle problematiche che lei, giustamente, oggi ci ha evidenziato. Quindi, anche a nome della Commissione, io la ringrazio e speriamo che presto ci si possa rivedere qui, su questi schermi, magari con dei risultati che tutti quanti ci auspichiamo. Grazie e buon lavoro. Io vi ringrazio a voi davvero di cuore per la sensibilità su un tema a noi molto caro. Avete capito benissimo. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie a tutti.